E' in programma la finale del programma a coppie, ma prima di andare a vedere i primi risultati vi diamo conto di quanto è accaduto nello short maschile. Uno short particolarmente entusiasmante per chi ha visto il rientro alle gare, alle competizioni non solo in Grand Prix, ma in un campionato europeo di Eugenie Plushenko che ha conquistato per la quinta volta, ha ritoccato lo short con un punteggio esaltante 91-30 ma c'è dietro Brian Joubert, il francese con 88-55, Yannick Ponserot 82-40 in terza posizione poi Michael Bresina della Repubblica Cecca 79-60, lo svizzero Stéphane Lambiele ha ritornato anche lui in competizione con 77-75, poi il francese Alban Probert 76-37 Samuel Contesti, l'azzurro è settimo, medaglia d'argento uscente da Helsinki 75-90 si è qualificato anche per la finale, entravano i primi 20 Paolo Bacchini con 60-90 ed è dunque certo a questo punto di Vancouver Paolo Bacchini mentre non ce l'ha fatta Karel Zelenka, ventitresimo con appena 53-09 punteggio molto lontano dal suo migliore risultato e questo di fatto pone Karel fuori l'Olimpiade di Vancouver dobbiamo dire purtroppo perché Karel si era preparato piuttosto duramente impostazione cronaca, il commento tecnico è affidato come sempre a Franca Bianconi un programma delle coppie, andiamo a vedere che vede al comando la coppia Campey King con 137-29 i britannici davanti ai connazionali Rissio e Paxton 130-09 poi gli estoni Sergeyeva e Glebo, c'è vento 29-46 i greci Crenshaw e Zagris 115-59 Ivanova e Zaleski, i bulgari 106-31 stiamo vedendo adesso per la Svizzera Moran e Dursa sulla colonna sonora di c'era una volta in America di Ennio Morricone ma è una finale particolarmente attesa questa Franca perché in sesta posizione dopo lo short Nicole Delamonica e Yannick Cocon sanno che possono ritoccare questa posizione e andare quantomeno in quinta e in quarta avvicinarsi al podio se eseguiranno senza errori cosa che invece è successa in occasione dello short si tutto è possibile questo è un libero abbiamo detto i distacchi sono molto brevi e quindi dipenderà tutto da come patinano loro da come patinano i loro avversari intanto stiamo assistendo a una bellissima prova molto bene anche il triplo lutz lanciato dei due giovani svizzeri che gareggiano ancora in campo junior sono i giovani proprio alla scuola di Ingo Stoyer e si può vedere un po' della sua impronta c'è un pochino di Aljona Savchenko e Robin Solkovi in questi due ragazzi lo stile è quello il modo di eseguire certi elementi pure sono molto piacevoli e stanno acquisendo sempre più dimestichezza guardate che bello questo sollevamento starlift che poi cambia e scende con una difficile discesa per ora un programma bello pulito senza errori Morana e Dorsati hanno ottenuto il dodicesimo posto agli scorsi campionati europei la famosa spirale esterna indietro che non piace a nessuno con quella posizione così antiestetica ma che purtroppo per il regolamento serve a prendere livello e punti ecco poi approfittiamo magari del momento di pausa per ricordare le esigenze che vengono osservate nel programma libero è solamente semplice il flip da parte di Antoine fanno fuori sincronia la trottola in parallelo recuperato sul finale un pochino l'unisono certo non è precisa quella trottola e subito si entra nella per spin Nenei Moran e Antoine Dursa beh io direi un'ottima prova la loro unico neo quel flip semplice da parte di Antoine sul finale ma per la giovane età di questi due ragazzi per il poco tempo tutto sommato che gareggiano insieme da 2006 quattro stagioni però partendo proprio da livello zero direi che hanno compiuto tanti tanti bei passi avanti e saranno di quelli che terminato il ciclo olimpico perché come sempre dopo il ciclo olimpico ci saranno dei ritiri saranno tra quelli che potranno ambire secondo me a una medaglia a un podio europeo tranquillamente se continuano con questa velocità di progresso sono davvero in evoluzione la Moran ha quasi 17 anni Dorsani ha quasi 21 per cui sono davvero giovanissimi in una specialità che vede anche campioni maturi loro sono entrambi tedeschi in realtà perché sono nati a Chemnitz e hanno ottenuto la cittadinanza nel 2008 e tra l'altro ricordiamo che il loro natore Stoyer è stato nel 1997 campione del mondo in coppia con Mandy Wetzel allora ricordiamo anche le esigenze che vuole il libero delle coppie tre sollevamenti di gruppi diversi due salti in parallelo di cui uno in combinazione o in sequenza una sequenza di spirali una spirale non obbligatoriamente come nello short ecco in Bostoyer un twist due lanciati di diversa natura tra di loro e poi due trottoli una in parallelo e in combinata vedremo tra l'altro gli azzurri nel penultimo gruppo mentre ricordo che il coordinamento giornalistico da Roma è curato da Annalisa Bartoli e adesso prima del warm up ci sono ancora due coppie i tedeschi di Auschwitz e poi i polacchi su lei e Krucinski ecco Ingo Stoyer alla destra dello schermo Arianna Arianna Delleser e Heinz Virze invece sono stati i primi tecnici di questa coppia che ha preso come abbiamo detto la cittadinanza svizzera allora andiamo a vedere se riusciranno a battere il sicilio che escono Morane e Dorsà battono agilmente proprio e Kempe King con 144 e 95 144 e 95 per Morane e Dorsà che quindi balzano al comando della classifica